Sono Manolo Delchino, il pescatore della Nazionale. La mattina andrò giù. Poi, e dopo, a capo. E poi meccorrono a capo. E' una pregata sincerata. Sono da cura, io mi era la metoda. Ho fatto l'acquare. Beh, mi hanno fatto più di tutto. Oh, peluci, scogli. Però ci metto pesci. Tempo 5-10 minuti. Tutti mettici le medicine. Usa questi due bocciolini che sono buoni. Ma lì, ci metto l'acqua. No. Perché... Come qua ti fa male? Lo passi sotto l'acqua. Se fa male a noi, farò fuori anche pesci. No. 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 in più. Ma è una caramella. Era grande e luminosa. Ma cannella. Mi recallo. E mentre fuori, mi mette notate. Mi spianniscono. I gabbiani sono sottili. Loro. Grazie. Sempre scrivete, però, il figlio è riuscito a comprare la barca per farci un po' di pesca a stracci. Alì, mi dico. Me l'ha portata a Corriere Marcolini, però c'è anche lo schifero. Oh, e non si sta, eh? Si che si fa pesca a mare, dietro lì che pesca, lui, «Everyone sta a voi! Everyone sta a voi! Everyone down to you!» E le si aprono, chiudono, vanno al sito, e lui che pesca così l'ho fatto, «La fai finita, ti fai pescato!» «Era un'altra cosa!» «Ma anche egli, il budello di Tumac, ti fai pescato!» E ho detto, «Boglione!» Siccome aveva paura che non avevo di peso, t'ha fatto il burco, t'ha incatenato a timore. Poi mi ha sommetto un berchiano, a notte dormire lì. Allora ho detto, allora ho aperto, io pesco, partete dai! Di notte mi sono svegliato, ho preso l'attrezzo, ho ripetato tutta la piattaformina, poi ho preso una bella pombolezza nera, l'ho scritto, «Rugginnaker, Budiansky, sulla ranga, eh! E sulla poppa, pumpa!» E domani sono usciti in mare, come ha aperto le vere, ho guardato la scritta, sei distratto, la prima volta sei andato in mare, se non lo so, non lo so, non lo so. Sempre questa musica. «Priatore, però basta! Disco rotte! Ma con le macchie in altre, l'ho detto a Poglione! Ecco lì ti vuole tutti i parabogli, vale?» Buongiorno, va bene. «Il peschereccio non ci molesta, se no offendo prima voi può assumare. Tutto giorno dal lupo di mare, qualunque cosa che puoi cucinare, un taccone, un taccone, no!» «Anche se stiamo fuori stagione, io ti ho chiesto la cacciagione, un taccone, un taccone, no!» «Un un po' triste, stamani mi è morto di rito, anche a piano le tripe. i primi mesi ritiravano la ricca in mare, le riportavano. Ora ho iniziato a far fumare, riportavano numeri di telefono. E poi c'è troppi gambiani, troppi, sono bianchi, tutti uguali. i gambiani sono cinese!» «Valerio Bertino!»